Gaitano, si è conclusa la tappa sul Garda, sono stati tre giorni di grande vela, Robertissima era partito così così ma una grande rimonta e siete confermati secondi, guadagnando anche posizioni in classifica generale. Sì, pian piano ci stiamo sempre più confermando ad alti livelli quello che era il nostro obiettivo all'inizio stagione, è chiaro che non è stato facile regatare nel lago perché ho tutto destra, tutto sinistra, all'inizio abbiamo dovuto prendere un po' le misure su quello che era la strategia da prendere sul lago, anche noi, la modalità di portare la barca, tante piccole cose che magari all'inizio devi un po' rodare. Per il resto dal primo giorno, ma già dall'ultima prova del primo giorno siamo andati via abbastanza bene, sempre concreti e sempre là insomma. Tra l'altro anche Vasco in grande forma, specialmente nel corso della prima giornata, avete visto che dal baldo arrivava qualcosa di strano e vi siete portati tra i pochi a portarvi sulla sinistra. Devo dire che ha fatto una settimana ottima a livello di regate, forse a parte, qualche cosa, ma se vedi la classifica può essere capitato a chiunque di non fare tutte le prove sempre bene, proprio per il fatto che devi essere un po' estremo sul lago. Non è un modo di dire, ovvero lo diciamo da inizio stagione, sembrava un leitmotiv, però la realtà è che, visto anche i risultati qui di Torbole, può succedere veramente di tutto in questa classe. Cosa ti aspetti dal Mondiale di Porto Rotondo? Il Mondiale di Porto Rotondo è uno dei nostri obiettivi, sicuramente fare bene. Devo dirti che a oggi ci sono tante barche messe bene che possono vincerlo. Non è una lotta chiusa ai primi 3, 4, 5 della classifica, ma secondo me ci saranno a oggi sicuramente 10 barche che se hanno la settimana buona fanno il Mondiale.